Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano, l'autunno meteorologico è alle porte con il primo settembre che decreterà la fine dell'estate. Secondo le ultime uscite dei modelli la nuova stagione potrebbe essere inaugurata con un peggioramento dai tratti già autunnali con maltempo intenso ed anche aria fresca che farà calare le temperature. Durante il mese di settembre è prevista una graduale ripresa dell'attività dell'Atlantico anche se è troppo presto per dare una previsione dettagliata per l'intero mese. Affidandoci ai modelli stagionali settembre potrebbe quindi essere più dinamico ma con l'anticiclone nord africano che a tratti potrebbe essere ancora dominante alle basse latitudini. Secondo appunto le ultime tendenze stagionali le perturbazioni principali dovrebbero transitare tra le isole britanniche ed Europa orientale riuscendo comunque a tratti ad entrare anche nei mediterraneo centrali. Nel complesso il mese di settembre potrebbe dunque vedere precipitazioni in medio o poco sotto con qualche perturbazione che potrebbe finalmente riportare rovesci temporali nelle zone fortemente interessate dalla città, specie al centro nord. In particolare il sud rimarrà nel mirino dell'anticiclone il quale potrebbe portare ancora qualche ondata di caldo localmente intenso per il periodo. Trattandosi di tendenze meteo su base mensile vi invitiamo a seguire tutti i prossimi aggiornamenti in cui vi terremo informati sull'evoluzione della situazione sull'Italia sia per il mese di settembre che per la stagione autunnale. Un saluto dal Centro Meteo Italiano.